In questo video, ripercorriamo una conversazione in italiano tra due amiche sui loro progetti per San Valentino. Ciao, mio amico. Buon San Valentino. Ciao, mia cara amica. Buon San Valentino. Ciao, tesoro. Buon San Valentino anche a te. Come stai? Ciao, tesoro. Buon San Valentino anche a te. Come stai? Buon San Valentino anche a te. Come stai? I am very good. And you? Sto benissimo. E tu? Sto benissimo. E tu? Sto benissimo. E tu? WONDERFULLY. Meravigliosamente. Meravigliosamente. I planned a special evening with my boyfriend tonight. And you and Matteo? Ho organizzato una serata speciale con il mio ragazzo stasera. E tu e Matteo? Ho organizzato una serata speciale con il mio ragazzo stasera. E tu e Matteo? Ho organizzato una serata speciale con il mio ragazzo stasera. E tu e Matteo? Che bello! Io e Matteo abbiamo deciso di cucinare insieme a casa. Che bello! Io e Matteo abbiamo deciso di cucinare insieme a casa. Che bello! Io e Matteo abbiamo deciso di cucinare insieme a casa. How romantic! I hope you have a wonderful evening. Che romantico! Spero che tu abbia una serata meravigliosa. Che romantico! Spero che tu abbia una serata meravigliosa. Che romantico! Spero che tu abbia una serata meravigliosa. Thank you dear. I wish the same for you and Marco. Grazie. Cara, auguro lo stesso a te e Marco. Grazie. Cara, auguro lo stesso a te e Marco. I prepared a spicy surprise for Marco. Ho preparato una sorpresa piccante per Marco. Ho preparato una sorpresa piccante per Marco. Oh mio Dio! Che cos'è? Oh mio Dio! Che cos'è? Oh mio Dio! Che cos'è? I bought a new set of lingerie. Ho comprato un nuovo set di lingerie. Ho comprato un nuovo set di lingerie. Ho comprato un nuovo set di lingerie. Oh, Giulia, sei audace. Sono sicura che Marco apprezzerà molto il tuo regalo. Oh, Giulia, sei audace. Sono sicura che Marco apprezzerà molto il tuo regalo. Oh, Giulia, sei audace. Sono sicura che Marco apprezzerà molto il tuo regalo. Io spero proprio di sì. Spero proprio di sì. Spero proprio di sì. Sai, è importante mantenere accesa la fiamma della passione nella relazione. Sai, è importante mantenere accesa la fiamma della passione nella relazione. Sai, è importante mantenere accesa la fiamma della passione nella relazione. Hai ragione. È importante mantenere viva la scintilla dell'amore. Hai ragione. È importante mantenere viva la scintilla dell'amore. Hai ragione. È importante mantenere viva la scintilla dell'amore. You are truly an inspiring couple. Siete davvero una coppia ispiratrice. Siete davvero una coppia ispiratrice. Siete davvero una coppia ispiratrice. Thanks, Maria. You and Matteo are equally incredible together. Grazie. Maria. Tu e Matteo siete altrettanto incredibili insieme. Grazie. Maria. Tu e Matteo siete altrettanto incredibili insieme. Grazie. Maria. Tu e Matteo siete altrettanto incredibili insieme. Grazie. Buona serata e tanto amore. Grazie. Buona serata e tanto amore. Grazie. Buona serata e tanto amore. Same to you. See you tomorrow. Kisses. Altrettanto. Altrettanto. Ci vediamo domani. Baci. Altrettanto. Ci vediamo domani. Baci. Baci. Kisses. Baci. 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 Baci.